Grazie a tutti Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il risultato del video contest di GTA V per l'account moddato quindi andiamo a chiudere questo video contest scriviamo chiuso ragazzi, allora come sapete tutti i requisiti necessari sono essere iscritti al canale, avere lasciato like al video ovviamente dovete avere il canale pubblico perché se non l'avete pubblico io non posso verificare se siete iscritti, se avete lasciato like cazzi e mazzi insomma quindi questo va a vostro discapito ragazzi quindi poi non protestate se ci dovesse essere qualcosa che non vi gusta quindi nulla come ho fatto per tutti gli altri video contest faccio alla stessa maniera ogni tanto vi faccio vedere l'orario ragazzi in maniera tale che possiate rendervi conto che non ci sono montaggi a parte che comunque si vede che non ci sono montaggi controlliamo un pochino tutti i commenti e controlliamo il tutto insomma per vedere un attimino come come muoverci insomma no allora una volta fatto ciò ragazzi andremo ad incollare il nostro link del video in random pick comment insomma per estrarre il vincitore ragazzi allora intanto colgo l'occasione per dirvi che i video contest di GTA li fa anche Orangotango Mods ragazzi quindi potete anche partecipare iscrivervi sul suo canale youtube contattarlo su facebook se avete bisogno di qualche account moddato e tutto il resto ragazzi quindi senza nessun problema senza nessuna cosa insomma potete contattare lui potete vedere che cosa vi dice a riguardo potete scegliere il vostro account su misura insomma come lo volete voi se lo volete ultramoddato come cazzo vi fare a voi insomma ragazzi dovete contattare lui intanto anche lui fa come ho già detto contest settimanali fa money lobby ragazzi quindi potete tranquillamente partecipare a una delle sue money lobby ovviamente le money lobby sono su ps3 ragazzi perché su ps4 non ci sono money lobby non ci possono fare money lobby su ps4 dal momento che non esistono le mod quindi andiamo all'estrazione ragazzi qui riscontro qualche problema con il sito quindi vado a sicuramente a cambiare sito che continua a darmi sempre lo stesso messaggio e quindi nulla si ritorna al vecchio sito ragazzi per fare l'estrazione senza problemi ritorniamo a youtube random comment picker italia e andiamo ad estrarre il vincitore andiamo ad incollare il link del video e andiamo a vedere chi ha vinto questo questo video contest ragazzi andiamo ad estrarre il vincitore vediamo dom andiamo a vedere cosa ha dom di di pubblico se c'ha qualcosa di pubblico se comunque ha condiviso il video cioè se ha lasciato un piace insomma si ha tutti i requisiti a posto ragazzi scusate il pc è lentino calcolate che anche il video è mandato un pochino in velocità leggermente in velocità perché se no veramente ci stavamo una vita cioè non non è molto però comunque sia e nulla abbiamo visto che D.O.M. non ha un cazzo in pratica vediamo X.Arfa vediamo anche lui non ha un cazzo non condivide un cazzo quindi l'unica cosa che lui ha visibile sul canale è questa glitch money cazzi e mazzi andiamo ad estrarre un'altra persona scusate ragazzi ma stavo rientrando nel canale di X.Arfa orango mods orango mods orango mods ragazzi non credo che sia lo stesso orango che che fa gli account ma penso che sia un fake quindi andiamo a verificare orango mods se ha tutti i requisiti al posto giusto in caso avesse tutti i requisiti al posto giusto infatti ragazzi come state vedendo non è il canale di orango tango mods questo sarà un fake non lo so qualcosa del genere vediamo vediamo account modda no allora non ci sono i miei video nelle sue liste preferite è iscritto al canale ma non ha non ha lasciato mi piace al video quindi automaticamente ragazzi verrà scartato come vedete si qui in basso a sinistra all'iscrizione ma non ci sono non c'è il mio video tra i video piaciuti quindi passiamo a un'altra estrazione abbiamo londra 007 vediamo un attimino se ha tutti i requisiti a posto anche lui cioè se ha tutti i requisiti non a posto anche lui anche perché gli altri che ho estratto finora non avevano i requisiti come vedete ragazzi qui abbiamo il mio video GTA e adesso cerchiamo l'iscrizione ragazzi cerchiamo l'iscrizione al canale e vediamo un attimino a cui londra è iscritta a un miardo dei canali vediamo un attimino un attimino che carica ragazzi vediamo vediamo ho visto l'iscrizione all'itigli di Roma carichiamo altro vediamo però se è iscritto a Maxi Milk YouTube come vedete eccola qui l'iscrizione all'itigli di Roma e anche l'iscrizione a Maxi Milk YouTube quindi ragazzi per questa settimana londra007 il vincitore di questo contest mi può contattare su PSN o lasciare un messaggio qui su YouTube lo ricontatterò io in qualche maniera mi raccomando londra non mi stalkerà perché se no mi fai girare i coglioni non ti preoccupare che l'account te lo do non sono un sola detto questo ragazzi al prossimo contest che uscirà domani mi raccomando rimanete connessi sul canale per partecipare al prossimo contest ciao